Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo una serie di punte in acciaio HSS. Queste sono delle micro punte. Si va da 0,3 mm di diametro a 1,2 mm. Vedete, si parte dalle più grandi e si arriva a quelle più piccole. La punta più piccola ha un diametro di 0,3 mm. Trova un impiego in modellismo, in elettronica. Mentre qui vediamo delle punte un po' più grosse. Si va da 1,3 mm a 2,5 mm. Anche queste punte sono impiegate per modellismo, ma anche per lavori di creatività. Per forare ad esempio Fimo, metalli. Sono in acciaio HSS e possono essere montate sia su trappanini manuali, quindi dei girapunte, oppure trappanini elettrici, trappanini per modellismo. Adesso vediamo i due set affiancati. Ecco il set piccolo, con punte da 0,3 a 1,2 mm, e il set grande, con punte da 1,3 a 2,5 mm. Saluti da Elettronica Didattica. Saluti da Elettronica Saluti da Elettronica